hi guys il video di oggi lo voglio girare tutto in versione cinematic questa funzione che c'è sull'iphone 13 13 mini quello che uso io lasciatemi nei commenti la alla fine cosa ne pensate di questa cinematic modalità intanto vado a prendermi un caffè sono arrivata alla gas station caffè forse ho esagerato oggi col caffè e non mi ha fatto fare le riprese dentro visto che stavo entrando con il telefono e il cavallettino mi ha detto ah no riprese dentro va bene my friend just coffee mi ha preso uno large e troppo sono da kruger questa versione cinematica però sfoca tutto lo sfondo è bella però in questo caso volevo farvi vedere la insegna di kruger ma è sfocata però ho detto che faccio il video tutto cinematico oggi lo facciamo sto andando a comprare la salsiccia la salsa barbecue perché vado a fare una grigliata con i miei amici al parco è una bella giornata guardate che bello mettiamo gli occhiali da sole si è scaldata la temperatura e viva houston in inverno ci sono un sacco di salse hawaiian questa con brown sugar volevo la classica la classica la classica non la trovo dove dove sei c'è da perdersi qua nelle salse da dove c'è il mio carrello che la queste sono tutte salse continua e continua e continua e continua e continua e continua e continua ho fatto la ricerca qui nella giungla alla fine vado con origina kraft semplice anche di carne ce n'è tantissima e mi sa che prendo non so se prendono sweet or hot italian and then prendo questi qua con la birra e prendo devo prendere anche un'altra cosa adesso vedete perché abbiamo ho scoperto adesso che abbiamo un ospite speciale che è la mamma di andrea dovrebbe esserci e quindi gli compriamo un mazzo di fiori perché se non sbaglio è anche il suo compleanno così sembrerebbe però l'effetto cinematic è carino no soprattutto quando cammini che ne pensate ragazzi lo metto qua in primo piano c'è delle roselline c'è un girasole altre piante sembra carino no facevo il figo parto adesso così arrivo in anticipo faccio questo faccio quello alla fine sono uscito adesso dal supermercato mezzogiorno e 0 2 appuntamento mezzogiorno e mezzo ovviamente devo anche guidare quindi arriverò giusto devo trovare il tempo di registrare lunedì delle risposte però abbiamo anche domani sono arrivato al parkour ovviamente primo in fondo ci sono i giochi per i bambini visto che sono anche dei bambini e qua c'è un po di fanghetto però qui ho preso questo tavolo ovale adesso ve lo faccio vedere e la c'è la griglia c'è un po di gente però sembra abbastanza tranquillo poi se è troppo vicino la strada la ci sono altri tavoli con la griglia quindi abbiamo più options da andare al bagno che è là in fondo inizia arrivare la gente inizia arrivare la gente ciao mauro già lo conoscete visto in altre grigliate e anche a mangiare la pizza e anche a mangiare il maestro pizzaiolo volevo fare vedere una cosa curiosa musica queste castagne sono tipo le castagne ma sono a gusto presso in qualche modo io non risulto sposata mia moglie al comune di milano curioso però gli ho detto vabbè non c'è problema vi porto i documenti signora buon compleanno buon compleanno signora eh no è di tutti grazie che sorpresa ha fatto allora la foto hai capito che è più brillante eh ma che belli Alberto cosa ci hai portato di buono ho anche questo questo è senza sale aspetta che ribai new year street tira da fuori tira da fuori tira fuori la saltezza manuele tira fuori la saltezza proprio giuda proprio un assist così no ma che roba che ti ho fatto ha tirato fuori la saltezza Mauro ok cosa ne pensi di questa Atalanta americana aspetta il microfono oh questa Atalanta americana che tradiziona microfono dica parli il microfono il gruppo percassi è questa ci ha dato questa tristissima notizia che il gruppo percassi sarà probabilmente acquisito dalla ditta americana da questa KKR questo gruppo americano e essendo l'Atalanta parte del gruppo percassi passerà anche l'Atalanta sotto un gruppo americano svendiamo anche l'Atalanta dobbiamo dobbiamo ribellarci forza Atalanta dai Bergamaschi compriamola noi compriamola noi dalle valli porco cane dai andiamo agli americani ma siete matti è la nostra tradizione cosa costa questa Atalanta la cosa costerà 20.000 dollari 20.000 euro che ne so dai ci uniamo tutti insieme ogni bergamasco nel mondo a Bergamo dai tutto bene? vuoi un po' di arancio è successo qualcosa lì di gatto con la Emma o la Lidia con qualche bimbo si vede un po' di tramonto alle mie spalle a mia destra anzi a est niente è stata una bella giornata sto rientrando una cosa vorrei comprarmi il cappellino nuovo perché ormai ormai ancora febbraio però il tempo migliora e quindi mi piace comunque averla a testa coperta è l'inverno per coprirmi dal freddo e in estate per non bruciarmi la testa visto che non ho i capelli che mi proteggono dai raggi solari qui si vede un po' di tramonto non so se si vede dal finestrino della macchina eccoli un po' di colori texani intanto vediamo se salutiamo Emanuele guardate con la Volvo salutate salutate ciao